Wow! Ahm, si spostila, prego, signora lepre! Che divertente! Perché questa grande lepre non ci lascia passare? Come mai non indossano i cappelli? E come facciamo a raggiungere la nostra prossima porta se questi piccoli dinosauri non ci fanno passare? Il vincitore! Il vincitore! Come facciamo ad arrivare alla nostra porta con tutti questi scogliattoli che ci volano intorno? Come facciamo ad arrivare alla nostra porta!